La partita tra Russia contro Giappone è un risultato di quattro ragazzi del Giappone abbiamo qui Giovanni, capitano della Russia, Giovanni campioni in carica, siamo alla seconda sconfitta del girone ci siamo vinciati a domani soprattutto quello che fa male è la sconfitta, ci possono stare le sconfitte ma è il modo in cui si approcciano le gare non c'è la convinzione quindi a questo punto è inutile proprio fare un torneo e non avere la giusta convinzione le sconfitte ci possono stare, però bisogna militare la sconfitta pure le sconfitte si militano in questo caso non è una sconfitta crede che sia subentrato un po' di arroganza la parte dei tuoi compagni? no, arroganza non credo, ma la superficialità si respira pure andando allo spogliatore a differenza dei tornei precedenti si respira è come se vi fosse appagati di questa storia del torneo invernale come se avessimo trovato la formula per vincere tutte le partite quindi andiamo convinti che prima o poi riusciamo a vincere non è così che dire io ti faccio in bocca con le persone che cambia la situazione che si ricambiano in gare e si dimostra l'angolo non è così Grazie.